Oltre 2 milioni di euro spalmati in due anni per rinnovare le materne statali di 90 Vicentina. Una riguarda ovviamente la scuola materna 2 giugno che è questa qua alle mie spalle che avrà un intervento, subirà un intervento importante di circa 960 mila euro più altri 100 mila verranno praticamente messi sul piatto dal comune di 90 Vicentina con il conto energia per un totale di oltre 1 milione di euro. Boccata di ossigeno che deriva per la gran parte da un finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Istruzione volto al miglioramento delle strutture scolastiche. L'altro investimento ottenuto con la medesima modalità servirà alla scuola Papa Giovanni XXIII a Saline dove verrà costruito un nuovo edificio. La costruzione di un nuovo edificio che abbiamo pensato di posizionare a lato del palazzetto di Saline dove c'è già una scuola elementare, la di Amicis e quindi verrà praticamente potenziato un polo scolastico che avrà ovviamente una caratteristica di continuità diciamo così con già delle strutture preesistenti. Il futuro e la progettualità scolastica di 90 Vicentina non si ferma alle strutture ma investe sui contenuti e punta a collaborazioni ambiziose. Abbiamo preso in considerazione una partnership con una start-up dell'università un'altra proposta pedagogico didattica che fa capo invece ad altre realtà e ne avremo una terza quindi ci stiamo muovendo in più direzioni dopodiché il collegio dovrà fare sintesi di tutto questo e capire.